Rilevo parecchio traffico radio. Ti stanno cercando, Ben. La Vuz ancora non risponde. Va presto e vai all'interno. Rilevo parecchio. Rilevo parecchio. Rilevo parecchio. Preparati. Trebbe esserci un esercito di russi dall'altra parte. Coprimi. Neanche una parola, Bell. Che cazzo è questo posto? È un percorso della Space Nuts. Fatto come una tipica città americana. Merda, stanno iniziando. Cazzo, muoviamoci! 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 vedi la torre di controllo da quella parte quell'ascensore porta dritto alla torre di controllo granata non solo salire siamo finiti in mezzo a una specie di esercitazione il posto è pieno di russi stiamo cercando informazioni sembra incazzata tu dici che è incazzata sembra il loro centro di comando forza pingo centrale informatica benvenuto nell'archivio analitico bellico del popolo sovietico operazione green light accesso è limitato che cazzo è l'operazione green light puoi violare quella roba ovviamente c'è una password guarda in giro i russi non sono molto svegli forse c'è qualcosa sulla scrivania bene prendo una copia non ha alcun senso Perseus si è infiltrato in un programma atomico della CIA l'operazione green light gestito da Hudson la testata rubata è americana e Hudson lo sapeva merda dobbiamo andare non ci credo cazzo non ci credo cazzo park rispondi Hudson ci ha mentito ci ha mentito cazzo di che cosa stai facendo è un soldato è testato per revealed che ancora ha fatto non ci credo ci credo è tutto lo so fa rude don'ung poi allora lord the 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 there the Stai il fronte! Stai il fronte! Cerchiamo di tagliarsi fuori! Lutz, Bell, come siete messi? Stai il fronte! Dobbiamo raggiungere quell'uscita! Quei bastardi bloccano l'uscita! Dobbiamo sfondare il blocco! Occhi aperti! C'è un altro con la strada! Mi serve la copertura! Ricorda, mira la testa! C'è un altro con la strada! C'è un altro con la strada di ferro! Sì, siamo tutti! La strada di ferro! Quello, come sei la strada di ferro! ...osce il nostro con il nostro con il nostro con i potesti? Sì, è troppo! Sono l'assastito! Sì, è il nostro! Sempre tu fai trovare! È verticalmente! L'accessione di sterzo cambiò.